Per partire, mia moglie stava andando a scuola, mi diceva dove vai oggi? Vada a Rapolla. Mi ha detto quindi vai all'Eterno. Io ho detto ma no. E ho fatto una figura a Pedalino, mi ha detto guarda c'avevi ragione tu. Ma era mia l'ignoranza, mia moglie che è più attenta di me, tra l'altro l'ignoranza con la doppia, perché mi sono fatto costare la iPad per guardarlo. Nella professione che facevo, che era un medico, mi occupavo di malattie circolatorie, le terme nostre, nella nostra Italia, pochi hanno la caratteristica di avere insieme i bicarbonati che liberano un minimo banale di radioattività positiva, che è indispensabile per curare le malattie vascolari. Ce l'hanno tre o quattro tipologie di acque e tra quelle ce l'hanno quelle di Rapolla, quindi doppia ignoranza dal punto di vista. Mentre... Mentre... Mentre...